bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi guardate alle mie spalle che cosa è apparso pochi minuti fa sull'account twitter di epic games ragazzi è meravigliosa è il primo teaser ufficiale della stagione numero 4 la stiamo aspettando tutti ragazzi abbiamo veramente ansia di scoprire qualcosa sulla stagione e fortnite il team di epic games come ha fatto anche nelle precedenti stagioni qualche giorno prima della fine della stagione numero 3 in questo caso che si chiuderà il 30 aprile comincia a rilasciare qualche piccolo dettaglio beh ragazzi qua di dettagli direi che ce n'è ben più di uno ragazzi ce ne sono ben due abbiamo visto anche ieri ragazzi con quel down dei server e quella modifica ai televisori che insieme anche ai nuovi oggetti apparsi sul tetto di tilted towers alla meteora in cielo alle nuove skin sembrerebbe che qualcosa dallo spazio sia veramente pronto ad arrivare in fortnite in questa immagine ragazzi è facilissimo intuire come c'è una scia guardate ve la faccio vedere meglio spostandola guardate questa scia ragazzi questa è assolutamente la scia di una meteora che cade è palese ragazzi è palese la meteora sembra davvero che vada giù ma la cosa veramente persugorsa che era tanto che non dicevo che ci strabiglia ragazzi è lui è lui ragazzi guardalo qua va che bel faccione che c'ha guarda 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 ragazzi quel tizio lì ragazzi se 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 sembra davvero un supereroe ragazzi la stagione numero 4 potrebbe avere come tema i supereroi e non sarebbe neanche una cosa così strana se ci pensiamo anche perché si vocifara che ci sia stato un contatto della marvel ragazzi la marvel con epic games per fare qualcosa non si vive la pelle d'occa mi viene non si quella marvel è quella di batman quella di spider ma quella di flash quella dell'uomo invisibile che non lo vedevano quindi non lo pagavano e come si dice non c'era lui wonder woman ragazzi potrebbe avere come tema i supereroi per il momento non è stato ancora rivelato nient'altro per quanto riguarda la stagione numero 4 fatemi rimettere bene 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 questo qua dietro che è una figata incredibile guardalo qua guardalo qua beh ragazzi ditemi voi sotto qua che cosa ne pensate io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video e noi ci vediamo tra poco in live ciao